Buona serata, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Questa sera in 35 minuti circa cercheremo di spiegare, di raccontare quello che è successo e quello che sta succedendo nella discarica di Paterno, nell'ex cava di Paterno, nel comune di Vaglia, una zona che è finita sotto gli occhi della magistratura. Un'inchiesta piuttosto importante è stata definita la terra dei fuochi della Toscana. In qualche modo cercheremo di capire perché lo faremo insieme anche all'assessore all'ambiente del comune di Vaglia, Riccardo Impallomeni, che saluto e ringrazio. Buonasera a tutti. Allora, è un'indagine, un'inchiesta che è in corso da molto tempo, però ieri intanto si è arrivati a un punto, se non altro, un punto è a capo in qualche modo, proprio con un ulteriore sequestro della cava. Lo vediamo nel punto di Chiarelci. Una vera e propria discarica dei rifiuti a cielo aperto. Era diventata questo, nel corso degli anni, l'ex cava di Paterno. Per questo, la procura di Firenze ha disposto il sequestro, a fini probatori, dell'area che si trova nel comune di Vaglia, trasformatasi nel tempo in una discarica abusiva che riceveva, stoccava ed interrava rifiuti pericolosi provenienti da varie parti della Toscana, ma anche da alcune regioni d'Italia, tra cui fanghi di conceria, pneumatici, inerti, scarti di salamoie della Solvei di Rosignano ed altri materiali non definiti. Come è possibile leggere nella nota della forestale, che ricostruisce lo stato delle indagini, le attività condotte dal Corpo Forestale dello Stato hanno portato a scoprire nel sito, che in passato appunto nacque come cava per l'estrazione del carbonato di calce, tonnellate di rifiuti di varia natura, che dagli anni 90 sono stati portati sul posto per essere smaltiti lecitamente da numerose imprese toscane. Quattro sono per il momento gli indagati per reati ambientali a vario titolo, tra cui i due proprietari dell'area, padre e figlia, Lanciotto e Tullio Ottaviani, sotto inchiesta per discarica abusiva e omessa bonifica. Insieme a loro, l'ex sindaco di Vaglia, Fabio Pieri, indagato per omissione di atti d'ufficio e abuso d'ufficio, per non aver provveduto a bonificare l'area al posto degli Ottaviani e a repristinare l'intero sito. Indagato infine il responsabile dell'ufficio tecnico, Stefano Olmi, per il reato di omessa denuncia all'autorità giudiziaria. L'ex cava di Paterno, secondo l'accusa, avrebbe continuato a ricevere rifiuti senza autorizzazioni e in condizioni non adeguate di smaltimento e stoccaggio, sia in numerosi sacchi già sequestrati, sia altresì con interramento. Tuttavia, il PM Luigi Bocciolini, che ha coordinato l'inchiesta, ha deciso di procedere per il sequestro probatorio per impedire che il luogo possa essere alterato prima di arrivare al processo. Nel frattempo si è riunita la Giunta Comunale per discutere della questione. L'assessore all'ambiente del Comune di Vaglia, Riccardo Impallomeni, ha parlato in microfono di Ok Mugello, rivadendo il contenuto del decreto disposto dall'autorità giudiziaria, nel quale si legge aria e manufatti sottoposte a sequestro probatorio, ciò a significare, come evidenzia Impallomeni, che tutto ciò che è deposto in quest'area è corpo del reato. Noi ne parliamo proprio con Riccardo Impallomeni, però io vorrei fare un passo indietro e ripartire per raccontare un po' quello che è successo a Paterno. Allora Paterno, intanto per dirlo, è una piccola area, un piccolo territorio, diciamo incastonato tra le colline della valle che porta al Comune di Vaglia, poco distante dal centro abitato, dove c'era una cava. Sostanzialmente questo è l'inizio della storia. Come prosegue? Allora farei un'altra piccolissima premessa. La valle del torrente Carzola fa parte del sito di interesse comunitario Monte Morello, quindi è un'area di pregio ambientale. all'interno della quale per un privato cittadino, per capirsi, aprire una semplice finestrella in una sua abitazione, lo obbliga a fare progetti su progetti, richiedere autorizzazioni non solo al Comune ma anche alla soprintendenza, appunto perché ci troviamo in area vincolo idrogeologico, paesaggistico ed in più abbiamo anche appunto il fatto che è un SIC, sito di interesse comunitario. Questo è per inquadrare l'area nella quale ci troviamo. siamo sulla collina fiorentina, il Comune di Vaglia con il Comune di Fiesole praticamente sono la parte nord della conca di Firenze e questo è per inquadrare geograficamente dove ci troviamo e il pregio paesaggistico e ambientale. Monte Morello sotto l'aspetto strettamente geologico è composto da una roccia sedimentaria che si chiama appunto calcare di Monte Morello che ha un altissimo tenore in calcare, nei suoi strati calcarei, che raggiungono addirittura il 97% di percentuale di calcare. Questo significa che lo rende particolarmente appetibile sotto l'aspetto di che cosa? Del produrre calce. Come si produce la calce? Semplicemente si apre un fronte di scavo, non c'è bisogno che il materale lapideo che si estrae sia di grossa pezzatura, anzi più è sottile e più è fine e meglio è perché poi addirittura viene passato in frantumazione all'interno di un molino, dopodiché viene cotto il carbonato di calcio che è CaCO3 con il calore si scinde in CaO che è la calce appunto e la anidride carbonica. Ecco che cosa venivo fatto a Paterno. La calce Paterno era un'azienda che estraeva, produceva calce, dopodiché la commercializzava e addirittura la trasportava. E questo fa fino al 2000 più o meno. Precisamente. A quel punto che succede? Il tutto si interseca con l'alta velocità. La più grande galleria, più lunga scusate, della tratta Firenze-Bologna è proprio la Galleria di Vaglia. A quel punto c'è il famoso discorso dello smarino, cioè la talpa che realizza là e fora, sottopassando Monte Morello e quindi attraversando questa formazione geologica della quale stavamo parlando, generalmente calcarea, dove si butta questo smarino che inizialmente non è rifiuto, dopodiché diventa rifiuto. Questo è un passaggio fondamentale perché nel momento in cui è rifiuto non può che essere portato a discarica. E lì nasce l'affaire paterno. È da questo momento che ciò che era uno stabilimento industriale e una attività normale di estrazione e produzione di calce e sua commercializzazione recepisce invece quello che è lo smarino dell'alta velocità. Evidentemente in qualche modo questo smarino arriva lì e comincia ad essere depositato. Questo è quello che ci dice ad oggi la Procura perché ricordiamoci che ci sono due passaggi fondamentali. Uno è quanto è stato denunciato dalla popolazione e sono i sacconi bianchi che si vedevano anche nelle immagini che sono il famigerato polverino 500 mesh prodotto dalla ditta Medlink di Aulla portati e tenuti lì. Eccoli là esattamente grazie che si rivedono. Mentre invece vedete all'interno del capannone vedete della polvere bianca, un enorme ammasso di polvere bianca. A sommo studio il materiale che veniva portato dentro il capannone poi veniva ricoperto perché la popolazione tutta sapeva che lì veniva prodotta calce. Quindi veder qualcosa che ha una consistenza sabbiosa ed un colore bianco bene o male non destava preoccupazione. Ad oggi sappiamo che sotto quella polvere bianca ci sono i fanghi delle concerie di Santa Croce sull'Arno che detta così non vuol dire niente. Bene signori questo significa un contenuto in metalli pesanti cancerogeni come cromo esavalente, come cromo, come nickel e svariati altri rame, zinco di tutto quanto. Quello è ciò che è dentro? I sacconi sono fuori ma ecco ora si vede bene il capannone addirittura da quanti ce ne hanno buttati strabordano dal capannone. Ora non so se si vedrà, eccolo là, il fronte di Cava. Tutte quelle montagne che si vedono sono ad oggi state dichiarate rifiuto dalle indagini. Le indagini che cosa hanno fatto? Prima hanno raccolto evidentemente i racconti delle persone, dopodiché sono andati a fare i rilievi, hanno fatti i campioni ed hanno fatto le analisi. Allora intanto bisogna dire che la zona è di fatto di proprietà della famiglia Ottaviani, in modo particolare del padre e poi anche della figlia che sono tra l'altro anche loro indagati perché la proprietà è la loro attraverso varie società. Attraverso varie società che lo gestiscono. Quando parte l'indagine? Lei diceva intanto su, come dire, commissione, non su commissione, ma su, come dire... È esposto alla procura di una cittadina di Paterno, la quale a un certo punto comincia a vedere questo accumulo crescente di questi sacconi e chiede conto da una parte. Dall'altra c'è una lettera, se non ricordo male, all'ex sindaco Pieri, non ricordo esattamente, in cui si dice mi è giunta voce che avreste intenzione di far diventare quest'area una discarica di amianto, vi chiedo notizie relativamente a questo. Perché questo poi è tutto l'altro percorso. Allora, su questo sito che è stato fatto diventare, lei inizialmente ha detto la discarica di Paterno. Usando questo termine ci si confonde. Paterno non è una discarica, Paterno è una cava che è stata fatta diventare una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi. Quindi sono due cose ben diverse. Perché? Perché un sito possa essere stabilito che è discarica legalmente, deve avere tutta una serie di caratteristiche, va bene, geologiche, e poi c'è tutto un iter amministrativo. A Paterno niente di tutto questo. Paterno è una discarica abusiva. E la discarica di amianto? Bene, arriviamo a quella. A un certo punto, esattamente nel 2010, l'ex sindaco Pieri fa una lettera nella quale dice alla provincia dove in quel momento l'assessore all'ambiente provinciale è il suo predecessore come sindaco a Baglia, ovvero l'assessore all'ambiente provinciale Renzo Crescioli, dicendo guardate signori della provincia, noi abbiamo un'area che saremmo disponibili a far diventare discarica per rifiuti speciali anche contenenti amianto. Ora, la prima cosa che salta all'occhio chiaramente è che un pubblico amministratore, il primo cittadino, possa far presente questa cosa ad un altro ente pubblico, peccato di una proprietà privata. Prima anomalia, chiamiamola così. Dopodiché, guarda caso, la persona alla quale iscrivi è il tuo predecessore. Ve la taglio in maniera molto breve. Era comunque lui il riferimento. Esatto, è lì che nasce il Comitato Ambientale Baglia, è lì che nasce il movimento popolare di 6-700 persone che scendono in piazza al momento delle allora primarie a sindaco, è lì che è il sindaco attuale, Borchi, della cui amministrazione io faccio parte, sono assessore all'ambiente, vince le primarie. Quindi è tutto un percorso che ha tantissime direzioni. Però la mia domanda è questa. Naturalmente i cittadini si sentono spaventati dalla possibilità che in quel luogo ci possa arrivare una discarica di rifiuti speciali contenenti anche amianto, però di fatto le autorizzazioni non vengono mai date per questa discarica. Non è così purtroppo. Ad oggi l'iter per far diventare paterno una discarica per rifiuti speciali contenenti amianto è terminata. Il sito paterno è all'interno del piano di gestione rifiuti interprovinciale per ben tre province, Firenze, Prato e Pistoia. Nel frattempo cosa è successo? Le province non esistono più, la regione ha avvocato a sé quelle che erano le funzioni in materia rifiuti, quindi tutto questo dovrà essere rivisto. Fatto sta che agli atti, ad oggi, se uno si legge in ben quattro punti è riportato il piano interprovinciale rifiuti delle tre province, paterno è lì. È disponibile, è una zona a discarica. È lì, è lì. Allora, di questo parleremo tra poco anche per capire che cosa poi vorrà fare la sua amministrazione e cosa può fare la sua amministrazione anche eventualmente per questa situazione. Però rimanendo sul discorso in questione, dicevamo, i cittadini scendono per le strade, insomma per protestare contro questa situazione, ma lì i rifiuti in qualche modo ci vengono portati, ci vengono portati già da tempo e da dove vengono portati? Quali sono questi rifiuti? Esatto, allora questa è la cosa che sappiamo da ieri, avete ormai di pubblico dominio e su tutti i giornali, noi abbiamo fatto uno stringatissimo comunicato stampa perché non volevamo dare adito, non volevamo fomentare le paure, esatto, esatto, perché questa è una cosa che odio veramente. Io voglio stare con i piedi per terra e essere più scientifico possibile, per cui ad oggi la procura ci dice che lì dentro sicuramente ci sono fanghi delle concerie di Santa Croce e Sollarno, le chiamano salamoie della Solvè di Rosignano, pneumatici di vario genere, i sacconi della Medlink che abbiamo visto, i fanghi dell'alta velocità in grande quantità, ma la cosa che devo essere onesta, non tappiamoci gli occhi insomma, è che la procura ha fatto le indagini, è andata a colpo sicuro nei punti dove evidentemente gli hanno detto lì c'è questo, là c'è quest'altro, questo hanno trovato, ma non è che quello che ci viene detto oggi è che è stato scandagliato tutto il sito paterno, io ricordo solo una cosa, sono cinque ettari di estensione, quindi è come andare a cercare un ago in un pagliaio, veramente è evidente che è stato detto agli inquirenti vai lì e lì c'è quello. Anche perché quella è la parte più a luce del sole in qualche modo. Sì, e quindi considerate che da quello che ci scrivono è che in un punto hanno scavato fino a 15 metri, in un punto fino a 9 metri, quindi e guarda caso poi questi rifiuti ci dicono dal resoconto che erano ricoperti con 40 centimetri di terreno vegetale, quindi era una vera e propria operazione ben studiata da chi a me non interessa, è la procura che sta facendo il suo lavoro. Chiaramente, Seta, tra l'altro naturalmente questo, soprattutto per i cittadini, la paura che c'è vera e propria, poi naturalmente il termine di scarica già di per sé, soprattutto se abusiva, fa paura, però si ha paura spesso per quelle che possono essere naturalmente ricadute sulla salute, perché questo poi è il tema principale. Di vicino c'è anche il fiume, come ricordava poco fa, insomma c'è una zona dove c'è l'acqua che scorre e questo aumenta le paure in qualche modo. Certo, in tre parole, un sito inquinato deve seguire una certa procedura, la procedura è questa, prima di tutto deve essere caratterizzato il rifiuto per capire di cosa si tratta e quindi capire se è veramente pericoloso dalla salute umana. Prima cosa, dopodiché si vanno a verificare le matrici suolo, aria e acqua per capire se in qualche modo queste sono state intaccate ed inquinate, a quel punto c'è la messa in sicurezza del sito, la caratterizzazione definitiva e questo a Paterno soprattutto è veramente enorme come lavoro perché l'area e quindi la quantità di rifiuti a livello volumetrico è enorme, dopodiché c'è la bonifica. L'ASL si è mossa. Allora, noi appena insediati, questa è una cosa che ho fatto subito, proprio l'ho fatta io, la prima cosa che ho fatto è stato andare nel torrente Carzola a cercare se c'erano dei tubi, comunque delle comunicazioni tra l'area di Cava e il torrente, far fare dei prelievi all'ARPAT su quello che è il sedimento, perché fra l'altro ricordo che purtroppo il Carzola è uno di quei torrenti tristemente intaccati come il Carza dall'alta velocità per cui ci si cammina, è un problema doppio per assurdo. A quel punto poi ho chiesto all'ASL di fare una ricerca epidemiologica su quelle che erano le morti, i ricoveri, le malattie in genere. Che cosa è venuto fuori? Abbiamo fatto tre, sostanzialmente tre aree, una più vicina, cioè un raggio di 200 metri con centro Cava Paterno, uno più distante di 500 ed uno lungo l'asse viario, perché ricordiamoci che quando si porta un rifiuto pericoloso non c'è soltanto il problema di dove viene stoccato, ma soprattutto se è un rifiuto tipo amianto, per assurdo è quasi più importante il tragitto che gli faccio fare, per la sua volatilità. Qual è il risultato di questa analisi di ARPAT-ASL? Ce lo dice tra cinque minuti, ora le informazioni potranno in studio. Ben tornati in studio, allora ce l'avevamo lasciati con Riccardo Impallomeni, assessore della meta-valia, insomma anche geologo di professione, su quelle analisi che voi avevate commissionato all'ARPAT da una parte e all'ASL sull'indagine proprio sulla popolazione per vedere se c'era un'incidenza di tumori più grande in quella zona, quali sono stati i risultati? I risultati sono questi, che abbiamo fatto fare anche prelievi dai pozzi delle case prospicenti, la cava. Allora, in buona sostanza, le acque non sembrerebbero intaccate. I collegamenti con la cava non ne avremmo trovati. Invece i sedimenti in alveo sono, nei sedimenti in alveo sono presenti i materiali ed i metalli pesanti che ci sono in cava, ma sotto soglia, vi spiego, c'è un limite sotto il quale non viene indicato come inquinato, sopra quello è inquinato e dannoso. Sono sotto soglia. Terza cosa, invece, l'esame epidemiologico. L'esame epidemiologico è stata una cosa molto interessante, molto difficile, perché il problema è venuto fuori che rispetto alla ASL di riferimento e dall'abitato di Vaglia, a Paterno c'è il 50% di morti di tumore in più. Ma il campione è considerato troppo esiguo e quindi non provante scientificamente. Ma come numeri, se li leggo io, che mi intendo in questa cosa, leggo che sono il 50% di risultato. Quindi vi potete immaginare che impatto abbia avuto sulle persone questo dato. Perché, sono sincero, quando io, lo capisce chiunque, ho un qualcosa che lì non ci dovrebbe stare, che mi finisce nel torrente, dal torrente mi va nell'acqua, dopodiché pensate che di lì a poco ci sono pozzi con cui si annaffiano gli orti e addirittura poi vanno in acquedotto prima di San Piero, è chiaro che è poco piacevole la cosa, no? Naturalmente sì. Tra l'altro, insomma, anche certi materiali venivano fuori, sono poi stati, si sono smossi per tutta la Toscana e sono stati venduti anche come materiale edile. Sì, esatto, questo poi andrà capito e lì veramente la questione delle indagini sarà difficile, perché Calce Paterno era veramente un'azienda importante che faceva un ottimo prodotto, perché vi ripeto, la purezza in calcare era del 97%, quindi veramente quasi... Esatto. Moltissime erano aziende a cui veniva venduto il prodotto di Calce Paterno, per cui è brutto dirlo, ma io non so in quante case, almeno nella provincia di Firenze, c'è l'intonaco fatto con quel prodotto. Questo bisogna essere sinceri, così è. Ad oggi bisogna capire quanta fosse prima la percentuale di questi fanghi che veniva mescolata a queste cose, sinceramente non lo so, e quanto vedete i sacchi rotti. Quello è il polverino mesh che veniva utilizzato per produrre poi la calce. Senta, lei giustamente, perché poi veniamo anche all'attualità, l'attualità è naturalmente quella dell'inchiesta con un sequestro, l'area ora è posta sotto sequestro, tutta sequestrata e sono in corso, ci saranno ancora indagini che avanzeranno da parte della Procura di Firenze, però c'è la questione della discarica, che lei ricordava nel piano interprovinciale dei rifiuti è presente anche il nome di Paterno. Allora qui naturalmente cosa può fare un'amministrazione comunale come la vostra in qualche modo anche per avere una rilevanza, per farsi sentire, per voler dire la propria e magari non farci meno una discarica. Allora, io prima elenco i problemi, dopodiché provo... Dobbiamo fare le soluzioni. Esatto, esatto. Problema primo, tutta l'area è sequestrata, ma questo è temporaneo chiaramente, è passeggero perché poi passerà. È una proprietà privata, per cui non è nostra e questo è un problema serio. Altro problema, lì dentro ci sono rifiuti, quindi tutto l'escursus che ho fatto prima dovrebbe essere fatto da chi ha inquinato, cioè il principio è chi inquina paga. Noi stiamo riuscendo a farlo fare per i sacconi. La Medlink siamo riusciti ad imporre con ordinanze che mettesse in sicurezza i sacconi, che già sono stati caratterizzati come pericolosi. Piccola parentesi, dieci giorni fa l'Università di Pisa, in contraddittorio con l'ARPAT, era a misurarne la radioattività. Chiusa parentesi. Che risultati? Non si può. Non ci sono, io non li ho. Detto questo, lì loro hanno messo in sicurezza, adesso stanno campionando proprio per verificare la radioattività, dopodiché, perché è stata fatta una misurazione speditiva sul campo, dopodiché caratterizzazione, si capisce che cosa è, ARPAT ha dato i gruppi in cui suddividere questi ammassi in base al contenuto in nickel, che è uno dei metalli molto pericolosi presenti dentro quei sacconi, e quindi vi faccio un esempio, non sono i numeri, ma perché le persone capiscano, da 0 a 1 nessun problema, da 1 a 2 qualche problema, da 2 in poi enormi problemi. Bon? Per cui da 0 a 1 lo posso addirittura riutilizzare come materiale, da 1 a 2 mi va in una discarica normale, più di 2 mi va in una discarica speciale. Questo è per capirsi. Allora, tutte queste operazioni, vi potete immaginare di che competenze necessitano, vi ho parlato di Università di Pisa e di ARPAT, e tanti, tanti denari. Di chi sono quei denari, se non è colui che ha inquinato, che devono entrare in gioco i suoi, i miei, dei miei concittadini, di tutti i nostri concittadini, del contribuente. Perché è l'ente comune che deve sostituirsi, ripeto, deve sostituirsi, al delinquente. Quindi voi, insomma, in modo... Esattamente. Il problema è chiarissimo. Un comunello di 5.200 abitanti sarà un po' dura, che possa avere a bilancio dei milioni di euro per poter fare tutte queste operazioni. Anche perché, chiaramente, non abbiamo le competenze per poter fare tutto questo. E quindi, oltretutto, ci dovremmo avvalere, chiaramente, di ditte specializzate. Quindi è un costo ulteriore, chiaramente. Detto questo... Quindi che iter potete utilizzare? Allora, noi stiamo... Intanto, dall'inizio, io la prima cosa, quando capì in poco tempo, sinceramente, com'era la situazione, andai immediatamente dall'allora assessore all'ambiente della regione toscana, Anna Rita Bramerini, a Manotesa, spiegando la situazione. Lei capì subito, facemmo un incontro con Arpat, Reparto Bonifiche, il mio sindaco, tutti quanti insieme. La cosa fu chiarissima e ci fu data e ci è stata data una tranche di 152 mila euro per la messa in sicurezza di una piccola porzione, perché allora, ricordo, c'erano solo i sacconi. E' di ieri il sequestro di tutto quanto. Quindi allora si parlava solo di quella. Gli altri erano rumors, non era certezza. Ad oggi noi stiamo riuscendo, con una fatica ercolina veramente, a far fare la messa in sicurezza e la caratterizzazione di questi sacconi a Medlink. Salvando questo piccolo tesoretto, perché vi ho parlato, io ho fatto dei conti a cazzotto, si parla lì di 4 milioni di euro, quindi potete capire quanto sono 150-2 mila euro. E quanto potrebbero incidere. Esatto. Per cui io cerco di salvare il salvabile per fare più possibile. Quindi se quei lavori li fa il privato, naturalmente quei soldi avanzano. Io come assessore all'ambiente ho istituito nel nostro bilancio comunale un capitolo di spesa specifico dove sono quei 152 mila euro che la Regione ci ha dato e sono vincolati esclusivamente all'utilizzo per la messa in sicurezza di Cava Paterno. E su questo vorrei tranquillizzare i miei concittadini e tutte le persone interessate alla questione li sono e li restano in un bel salvadanaio. Perché servono solo per quello. Senta, nella zona di Paterno quant'altra persona ci abitano? 200 persone in circa. Che tenore c'è tra queste persone? Che cosa vi chiedono? Allora, considerate che quella è appunto una zona molto bella nella quale sono andate a vivere molte persone che arrivano da Firenze. me compreso. Perché la campagna alle porte di Firenze in un attimo, in 20 minuti sei in Piazza della Libertà e che è comodissima. Quindi andare a vivere in un sito di interesse comunitario ritrovarsi una cosa del genere è incredibile. Fondamentalmente incredibile. Le persone che cosa ci chiedono? Le persone ovviamente ci chiedono a differenza di ciò che percepivano prima, prima di tutto presenza, attenzione e tutela. Questo sostanzialmente. E io mi ricordo veramente una scena bellissima quando all'inizio cominciò questa indagine da parte della Procura per la strada davanti al bar le persone mi abbracciavano. E dico solo questo per capire come è sentita questa cosa. Senta, siamo quasi in chiusura. volevo chiederle questo la cava di Paterno è un caso secondo lei isolato in Toscana perché a volte si parla di questo se ne parla spesso e volentieri più riferito al sud e non è un caso che sia stata definita la terra dei fuochi della Toscana in qualche modo la terra dei fuochi naturalmente fa riferimento proprio a una zona del sud però scoprire queste cose in Toscana in qualche modo indigna sempre le persone in qualche modo però sono fenomeni presenti quanto sono presenti? Allora, non è secondo me lei sa bene che è una domandaccia questo è in questo momento perché è di pochi giorni fa la scoperta della stessa cosa a Castelfiorentino quindi purtroppo c'è da capire che da una parte il discorso generico delle eco-mafie è evidente che questo è un ambito che porta denari dove c'è il giro di soldi lo sappiamo tutti bene e devo essere anche onesto è il diritto ambientale un po' un qualcosa di nuovo in fin dei conti perché la legge Ronchi è stata ben accolta soltanto da poco tempo in fin dei conti e soprattutto la sensibilità delle persone si sta creando da poco tempo adesso si comincia veramente se pensate a quant'è che sui facchetti di sigarette c'è scritto il fumo uccide e quant'è che c'è la legge Sirchia se non mi sbaglio del 2000 una roba del genere in tutti noi si sta creando questa sensibilità veramente tutti noi stiamo cominciando a capire che se ci ammaliamo molto spesso c'è una diretta relazione fra ciò che mangiamo ciò che beviamo e ciò che respiriamo esatto e l'ambiente nel quale viviamo da questo nasce anche la sensibilità a quello che ci accade intorno e quindi agli aspetti industriali in fin dei conti l'altro esempio è di pochissime dell'anno scorso la sentenza su del Piemonte per cui la fabbrica dell'Eternit è stata riconosciuta colpevole per i morti a Casale Monferrato quindi è veramente degli ultimi anni io penso alla mia professione di geologo non è tantissimo che le persone hanno capito che forse sì in fin dei conti è ben utile sentire la voce del geologo prima di costruire la casa su una frana per cui questa sensibilità ambientale e della nostra diretta relazione con queste cose è veramente da poco che c'è per cui io che comincio a sentir questo sento Castelfiorentino sinceramente non è che mi meravigli molto anzi forse c'è d'ossero ottimisti che adesso si vengono a sapere esatto e soprattutto devo anche fare un plauso a certa magistratura che probabilmente anche loro stanno imparando a muoversi e a certa amministrazione pubblica perché guardate che io lo sto vedendo proprio con questo nostro caso di paterno è di una difficoltà l'aspetto amministrativo noi abbiamo dovuto prendere un avvocato che ci segue per la parte amministrativa un avvocato che ci segue per la parte penale sono cose io sono onesto lì mi fermo lì mi fermo insomma va bene allora abbiamo esaurito il nostro tempo io ringrazio Riccardo Impallomeni per essere stato con noi anche perché abbiamo accennato il discorso dell'ecomafia è un discorso molto ampio che magari possiamo riaffrontare insieme in un altro argomento anche espandendolo perché l'ultimo rapporto delle gambiette se non sbaglio era abbastanza chiaro su questo quanto sia un fenomeno molto forte in Toscana ma naturalmente nel caso specifico di paterno ci ha parlato Riccardo Impallomeni grazie per essere stato con noi grazie a voi grazie a voi per averci seguito da casa Telegram termina qui vi auguro a tutti una buona serata grazie a tutti grazie a tutti